È il 28 di marzo, la data prescelta per la riapertura degli affreschi di Piero della Francesca, il ciclo della leggenda della Veracroce conservato nella Cappella Bacci ad Arezzo. Le visite sono già state prenotate, ma ancora non si parla di sold out. Dopo il periodo dunque di manutenzione conservativa, adesso si stanno smontando i ponteggi per consentire le visite in maniera tradizionale. Durante l'intervento, durato circa due mesi, c'è chi si è potuto mettere letteralmente all'altezza di Piero. Così, infatti, si intitolava la straordinaria iniziativa a cura della direzione regionale dei musei della Toscana, che per l'occasione aveva deciso di allestire un ponteggio accessibile per consentire di ammirare il ciclo di dipinti murali da una prospettiva decisamente inedita. Terminato l'intervento, gli affreschi tornano visitabili, saranno aperti tutti i giorni, tranne la mattina della Santa Pasqua, per consentire le celebrazioni religiose all'interno della Basilica di San Francesco. Visite e aperture straordinarie anche per la Casa Museo Ivan Bruschi, che organizza aperture nei giorni di Pasqua e Pasquetta, durante i quali sarà possibile godere di una visita guidata anche alla nuova mostra La Libera Maniera, arte astratta e informale nelle collezioni intesa San Paolo.